e benvenuti ragazzi oggi siamo in un nuovo video di venerdì 13 ma io non sarò mai jason e appunto dove ci vediamo dove ci vediamo oh io sto con due persone no tre sono la casa gialla dove c'è anche la macchina ci vediamo lì bellissimo perfetto perfetto qui siamo benissimo batteria o cazzo batteria le chiavi un gruppo apri un tubo coglioni chi è il cazzone qua sono tutti coglioni non chiudono le porte guarda che non chiudono le porte questo è il faiolo quella col fucile oh vieni dove cazzo stai non lo so dai la macchina ah la casa gialla ah dove c'è no non è meglio ecco qui ciao pasquale pasquale siamo morti no pasquale ha messo una trappola dentro casa dove come possibile lo so io lo sento che mette le trappole sto facendo anche il video comunque se non l'avessi capito è anche tu il video madonna scusa allora batteria benzina e chiave da macchina ok si vai entriamo entriamo non siamo siamo entrambe non c'è cazzo faccio la frutta io faccio moro eh pasquale moro quale dove sei? amico 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 sono il tuo nella casa mi butto dalla testa amico tu cazzo stai lo sai te l'ho detto io che devi prendere il bastone che devo prendere? il bastone niente niente lascia la macchina allora noi diminiamo subito appena lo vediamo è brutto strancio bene bene continua grazie va bene se rischia vediamo vai schifo vediamo ok gli diamo la maschera via 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 sono ora no 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 adesso non ti fanno ero ma che ci sta succedendo poi avevamo quasi tolta la macchina e ci troviamo a manuare che sta facendo peccato non c'è se non si distruggevano le armi io colpivo e tu eri ancora vivo per cazzo di ferro pensavo non si distruggeva c'è di ferro e anche la mazza mia si è rotta lo stavamo uccidendo però dai dobbiamo cercare dobbiamo prendere la katana cioè il macete e l'ascia capito così via le vado un attimo in realtà basta ci servono 3 4 persone perché poi tutte le armi si rompono con due colpi capito quindi ci servono 3 4 persone 3 4 di persone quindi tra poi viene daniele il mio nemico ma c'è tutto ok è ma chissà se potremmo ci vado 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 dossa jason e l'ammazzo vado dossa jason e l'ammazzo si vado dossa jason e l'ammazzo vabbè io vado a cazzo duro levati devo uccidere jason eh boh comunque sa far video ma io vado a cazzo jason lo cazzo sta dove sei figlio di buona donna dove sei mi è c'è fate sotto ti sei nascosto oh cazzo no mi sta la stalla dietro da lì attacca com'è c'hai paura ora dai abbi coraggio amico ma tu c'hai la cura come faccio a prendere la cura dammi la cura dammi la cura dammi la cura eccola dove 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 madonna attaccalo attacca vabbè dai uccidiamolo attacca aiut il compagno no è scemo quel compagno attaccalo da solo tu sei fortissimo no è morto e mi uccide e mi uccide che palle che palle mi immaginavo la nostra missione è finita qui allora nella prossima partita lo giuro che che dobbiamo uccidere il genere l'ha detto lui nella prossima partita lo dobbiamo uccidere capito ok ok la prossima lo uccidiamo prova e forza lo dobbiamo uccidere guarda sto coglione del compagno invece l'aiuto a me sei nascosto nel cazzo di bagno chi? guarda poi con me giardis lo cazzo sta sono tutti i coglioni oh mio dio guarda tommy questa che cazzo c'ha in mano uccidelo uccidelo l'ha sparato ma non ci ha fatto un cazzo l'elica questa c'ha l'elica per la barca che? no questa è cazzo roi il gas roi oh roi mo se ne va eh qua barca roi no no ci manca la barca il gas ecco me meati mamma oh c'è la benzina meati prova la barca serve la cosa vabbè a quello che vu si serve la batteria prima per la barca la barca la barca per la barca devo scappare cazzo aspetto questo c'è la curata no che c'è ancora da fare ci posso prendere è morto a qui si vabbè ciao bravo wicker boys il figlio di pittà sempre wicker boys diventà eh tannigiarli quà chi cazzo di cortelli 15 a metri cc 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 wicker boys cc 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 questo è il prodotto amore sempre ok ciao va bene poi rimasto il biondo e wicker c'è la wicker c'è ancora la donna che è da sotto la bocca è da sotto dobbiamo cederlo poi nella prossima lo uccidiamo leggerò qualche parte del video ma cosa hai fatto no ho fatto solamente un video che si sta ancora facendo mi sto incontrando io bravo io sto tomando il monico per uccidere oh mio dio ciao coglioni attacca vacca vacca attacca porta vacca attacca quella vacca oh guarda sta porca vacca porca vacca attacca quella vacca della vacca di vacca del fumato della vacca di quella vacca di vacca apri il baule un cazzo ma ora c'è la supercell ok ora c'è la supercell ma c'è la supercell se vai a vedere il mio canale youtube ho fatto anche dei video se stessi invece ho finito ricordando non c'è la supercell non c'è la supercell non c'è la supercell non c'è la supercell cosa c'è la supercell una supercell che è la supercell cosa c'è la supercell Ah, muoreci, wicker del cazzo. Dai, sto con il serio, sono wicker. Io rimango a guardare per sempre il suo corpo. Poverino. Ha ucciso come ha fatto un uomo. Ma perché? E' un bastardo. Bravo, Gerson. Eh, cazzo, cazzo. Ma, è andato sotto a letto. Ma. Vabbè. Va bene. E' rimasto. Ma siamo a guardare lì? Ma sì, signorino. No, il mio corpo lì ne ha capito. Ah. Marta. No. Che cazzo? Cioè, hai visto? Ma, squad? Squad? Ma, qua. E' morto? Sì. Qui, sono qui, scusate. Sì, scusate, scusate. Sì, scusate. 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 Come home, sweetie. Come on, come on, Jason. Dammi tutte le tue, dammi tutte le anime che hai ucciso. partecipazione award, che cazzo, ho ucciso, ho ucciso sette persone, ma l'ottava persona, l'ottava persona, chi è? Scusa. Una che sarà uscita. E però ce l'è ancora. Oh mio Dio. Emanuele, metti start, regali. Tanto ti abbia fatto. Ora ce l'ho in sette. Meati, metti pronto. Se no io il pronto, te lo ficco nel... METTI PRONTO, METI! Guarda quel METI BALZ. Bolzo. Dai, c'è Minotto, metti pronto, cazzo. Ciao, Ness. Ciao, Ness, ha messo pronto. METI, non ha messo pronto. Per colpa sua dobbiamo aspettare ventisette minuti, ventiquattro minuti. Per colpa sua... La scuola? La scuola? Sì? Oddio. Ma perché non parli? Non lo so perché sbaglio sempre che il microfono si mette... che non può parlare. Ah, muto. Sì. Poi speriamo che ci ridà la mappa di prima. Perché quella è la mia mappa preferita, Crystal Lake. Eh, io non lo so tutte. Perché ragazzi ho iniziato a giocare ieri. Oggi, veramente. Vero? Emanuele, vero? Ciao. Ciao, ciao. Crystal Lake, da c'è Crystal Lake, da c'è Crystal Lake. Ok. Cioè se sono Jason, una cosa impossibile perché io non sarò mai Jason. Però se lo sono non mi ne prego di quale mappa. Anche io praticamente mai Jason. Soltanto tre volte sono stato Jason. Io mai, mai, mai. Ma come mai? Secondo me, Jason sai chi è? Vuoi saperlo? Vuoi saperlo? Vuoi saperlo? È Roy. No, infatti io non sono. Eh madonna. Non sono. Devo essere io. Errori. 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 Vediamo. Errori, io non lo sarò. Emanuele Montagna. Oh mio dio. Ok, ragazzi. No, io non sono Jason. Ah no, e chi è questo Emanuele Montagna? Eh, boh. Ah vabbè. Non so Jason. Dai, dove sei? Vengo da te. Eh, sono nel bagno. Nel bagno? Ehi bagno. Quanto bene sono Jason. Eh, e me sono nascosto nel bagno. Allora, provo a vedere. Ho trovato la mappa! Fucile! Cazzo c'è Jason da me. Ho trovato la mappa! E' da me! Cazzo c'è Jason da me! Ho trovato la mappa. Ho trovato la mappa. È veramente anche da me. Qui sta la mappa. che cazzo è sto bagno madonna al falò no do come bo è un bagno che cazzo è sto bagno dov'è il bagno no mi ha quasi ucciso jason meno male che c'avevo un cortellino non c'avevo un cortellino ero morto io sto alla macchina la blu ancora questo bagno oh mi sto carica sotto cazzo mi ha preso gesù no si sono lasciato lo sta peccando lo sta peccando lo sta peccando sta peccando pure lui cazzo adesso boste oh io sto alla casa gialla sono sopra e le bagnano scosto ma tu la stai scappando a jason oh cazzo è sparato Emanuele mi sa che tu sei c'è sono ciao no 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 ciao Pasquale ciao Pasquale no dai ci regano una caramella ciao Pasquale si la caramella è la tua testa e comunque prima ti ho detto tutte che stavano bene lo sapete lo sapete ah bastardello vabbè bello bello no no bello non scappi ma che stai inserendo uno uno allora due un coglione un coglione un coglione un coglione un coglione che stai inserendo un coglione un coglione umana la batteria bastardo capo capo ciao coglione nooo è sul puglione io l'hai detto duro non c'è un sacco ciao ciao ok guardatevi Ah, ho paura C'è la bellezza Vediamo questa mossa che l'ho appena sbloccata Oh, madonna Ah, va male Fa molto male Ah, è una persona che fa molto male Voglio essere Tommy Ah, già sono Tommy Tommy è gold Non so chi l'ha ammazzato Ciao Tommy Marito a me Quanto sono forte Mamma Ma Vabbè Mi madre è vinito Oh, c'è i belli bambini Ma che manca Ehm Vediamo Ciao belle bambine Dove andate lo dovete dire a paparino Dove andate Ciao 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 bella Bastardo Troppo semplice era Per essere vero Il video è finito Sì Per me no Ok, allora continuiamo Stavo scherzando Dove vai Dove vai? Dove vai? Dove vai? Cosa? Che merda Gioco Gioco Non c'è il gioco Gioco Quel bastardo Deve morire Ciao Ciao Belle Belli Dove siete? Ciao Siamo vicino al fuoco Capito? Siamo vicino al fuoco Vieni qua Dove sfuggi? Da papà non ci sfugge Infatti vuole bene Infatti vuole bene C'è uno Nella capa Ma fatti vuole bene Ma fatti vuole bene Ma fatti vuole bene Ma fatti vuole bene Perché sfuggi da paparino Dove cazzo è? No non ci posso Dove cazzo è? Me lo dici? Tutti Oh buongiorno Ah uno è lì Uno è lì Uno no Avessi tutti e tre ma da prima da questo che mi sta sui caso Sparami, sparami 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 Io inizio del video comunque che visto registrato Very, veryly I ciao dove vai bella forse non so se è soltato praticamente abbiamo sbagliato perché il nostro scusmi scusmi ora da questa parte sarà un po visto sarete a guardare che un visto guarda che pezzo di merda e che cazzo è dentro la casa devo caso piccolo come cazzo si chiama ciao vicino alla casa gialla ma mi sto cedendo tutti guarda quante villa già ok ne mancano al terreno allora non stai lì non stai lì non vado per una busta dove è e sopra chi quella no in una casa sta chiamando la polizia dove è la pula? dove cazzo è? ma che cazzo ne so dai dove è? si va a far culo perché cazzo non me l'hai detto? perché hai fatto il coglione e non me l'hai detto? vedo una solda e sono di nuovo che ammazzo subito senza pietà la proprietà già io lascio perdere qua non c'è un cazzo di nessuno quella è una troia puttana me ne prego un cazzo io vado agli altri si e dove cazzo sono? una è nascosta due persone sono nascoste una vicino al lab e una vicino al giusto ciao bella amo qui cazzo ecco sei qui dove cazzo scazzi? c'è una anche dietro di te c'è bimba bimba eh manuare c'è una dietro di grante no bastard no bastard no 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 ti odio gioco gioco ti odio io lo odio come tu sruffla nooo come ha fatto sta pia nooo come ha fatto sta pia nel puro no ma no ma no ma no ma non ci posso che minchia è Dove cazzo è? Stanno correndo E' vicino all'entrata Dove viene la polizia Ma che la pull c'è? No Stai aspettando vicino all'apero Stai aspettando Quindi sta qua Sì? Sono nascosti E vai Bastarda Io lo odio sto gioco Non ce ne ho ancora lì Eh non posso Mi ha bloccato Guardala che troia Ma questa corda papà Dove cazzo stappi? No Non ci posso credere No io non ci posso credere No vabbè L'ho presa Ci devi morire Ci devi morire Mori Che cazzo Oh cazzo Do sanno gli altri? Yeah Kill the whole mother Eh? C'è solo una che Eccolo ho trovato Dove? Ma come si è disattivata la visibilità La visil person È vicino alla macchina gialla Visibility person Capito? Sì Visibility persone Trovato Ciao bello bella Ciao bella Non mi scappi Ciao Troia 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 Puttanella Dove è? Sento il trasporto Ma sta ancora qua dentro? Eh Sento il trasporto Muuti Ma dove è? Prendila Mamma Ma Non ne ho lasciate Ma come in vita Ve ti uccisi Guarda Anche a me 8 su 8 Ho ucciso anche il mio amico 8 su 8 Mami Ha Il mio amico è stato il secondo che ho ucciso Quanto sono forte come Jason E invece per non ci cagare Ma mi madre Va bene ragazzi Svezziamo questa partita Vabbè ragazzi Si conclude qui il video Un saluto da Emanuele Un saluto da Pasquale E al prossimo video Bella